Inizia una nuova puntata di Cronache e Commenti, la trasmissione che vi racconta il Consiglio regionale toscano attraverso le nostre telecamere. Anche questa settimana andremo ad ascoltare le voci dei consiglieri regionali sui vari argomenti dibattuti nell'ultimo Parlamento toscano. Tra i temi parleremo del rigassificatore di Piombino, ma non solo, parleremo anche del trasporto sanitario del volontariato, del grande mondo del volontariato, tra cui ovviamente le misericordie, una nuova legge lo regolamenta. Dunque iniziamo come sempre dal sommario per andare a vedere quali sono i titoli principali dei temi che andremo a toccare. Nuova legge sul trasporto sanitario. La regione viene incontro alle richieste delle associazioni. Rigassificatore di Piombino, botta e risposta fra maggioranza e opposizione sul futuro della nave. Rimborsi per attività ABBA passa una mozione che impegna il Presidente e la Giunta. Regolamento su Polizia Rurale passa una proposta di legge sulla riegolamentazione a favore dei comuni. Il Consiglio regionale tende una mano al mondo del volontariato con l'approvazione di una proposta di legge che dispone alcune modifiche sul trasporto sanitario. La nuova norma fa scendere da 3 a 2 le tipologie di attività di trasporto sanitario autorizzabili, ovvero il trasporto sanitario di soccorso base e il trasporto sanitario di primo soccorso e di soccorso avanzato. Tra le novità quella che, qualora l'equipaggio delle autoambulanze impiegnate nelle attività di trasporto sanitario avanzato, sia integrato con un ulteriore soccorritore di livello avanzato, l'autista può rivestire la qualifica di soccorritore di livello base. La nuova norma prevede anche che, al momento dell'adeguamento ai nuovi requisiti di esercizio, i soggetti già autorizzati all'attività di trasporto sanitario debbano dichiarare a quale tipologia di attività tra quelle previste l'adeguamento si riferisca e che il Comune debba dunque ridenominare le autorizzazioni pregresse secondo le nuove tipologie. La proposta di legge è stata approvata con il voto favorevole di tutti i gruppi, con l'unica astensione del Movimento 5 Stelle. Si va nella direzione corretta perché il mondo del volontariato ci chiedeva una risposta importante. Molte volte nel territorio, soprattutto dopo il Covid, si fatica a strutturare equipaggi, si fatica a trovare autisti che siano anche soccorritori e non si poteva disperdere l'esperienza di volontari che nel territorio svolgono questa attività ormai da anni. Quindi alleggerire i limiti anagrafici per consentire a persone che ancora sono nelle condizioni di farlo quel servizio, credo che sia una risposta veramente cogente, corretta, puntuale, che dà due anni di tempo in più anche per organizzarsi al mondo del volontariato. Pensate che molto volontariato nel territorio della Toscana diffusa è fatto da persone che poi sono quelle che poi di fatto se tu perdi un volontario perdi un valore straordinario. Fare il volontariato è offrire quello che più bello hai nella vita, cioè il tempo, agli altri ma dedichi anche la tua stessa vita agli altri. Quindi è una norma che va in questa direzione, ascolta quello che appunto il mondo del volontariato fa, quello che ci chiedeva e c'è una risposta puntuale, precisa, della politica che va in quella direzione. Noi abbiamo fortemente sostenuto questa iniziativa, ci sono anche delle altre modifiche, soprattutto per quanto riguarda i mezzi e quindi credo che ci sia una buona collaborazione nella nostra regione tra il mondo del volontariato e la politica che appunto ascolta e sostiene l'iniziativa che insieme ovviamente al sistema sanitario per esempio è portatore attivo dell'esperienza del soccorso avanzato, dei mezzi di soccorso ma anche del trasporto sociale e non solo. Allora la giudichiamo positiva, abbiamo votato a favore. Bene essere chiari, il volontariato sociale, le associazioni classiche, quelle che fanno il trasporto sanitario sono una gamba imprescindibile della sanità in generale, della sanità toscana in particolare. Se non ci fossero l'attività meritoria in gran parte generosa, gratuita e volontaristica da parte di tanti volontari all'interno delle associazioni noi non avremmo un sistema che non potrebbe stare in piedi perché banalmente non ci sarebbe nessuno che porta le persone all'ospedale, al pronto soccorso, che le riporta a casa dopo un'adegenza al momento di missione. Quindi noi intanto diciamo grazie a tutto l'associazionismo e il volontariato sociale che si occupa di trasporto sanitario, diciamo grazie a tutti i volontari e le volontarie che utilizzano il loro tempo libero per un'attività di generosità e questa legge va in un certo senso a dargli una boccata di ossigeno e di respiro per un mondo associativo che è una eccellenza e un elemento di grande grande eccellenza appunto alla nostra regione. A margine del Consiglio regionale si è dibattuto sul futuro del rigassificatore di Piombino. A luglio 2026, secondo gli accordi, dovrebbe lasciare l'area toscana per andare in Liguria. Dopo l'elezione di Bucci a presidente della regione Ligure però il dibattito si è riacceso a seguito della volontà espressa dal neo governatore di voler lasciare a Piombino la nave e dunque di non accoglierla a Vado Ligure dove sarebbe invece prevista. La maggioranza toscana spinge per far mantenere gli accordi. L'opposizione in Consiglio regionale rimarca la parola data dal presidente del Consiglio Meloni. Il governo, ora io capisco che hanno problemi al loro interno, c'è un presidente di regione appena eletto Bucci che dice no Genova, a scegliere sarà il governo. Noi abbiamo un accordo che dura tre anni, la nostra parte l'abbiamo fatta, noi in Italia siamo la regione che produce più, che ha più capacità di produrre energie alternative, penso alla geotermia. Noi stiamo, abbiamo chiaro che la strada è quella, è quella delle rinnovabili, di invertire la tipologia di energia prodotta. C'è stato un momento di crisi in Europa, anche per quello che è accaduto nella guerra tra Ucraina e Russia e noi ci siamo presi carico di dare una mano al Paese. Abbiamo detto che per tre anni, ora il governo scelga e lo faccia però scegliendo davvero qual è la collocazione migliore. La Toscana, alla sua parte, l'ha fatta. Stiamo attenti a non fare, ripetere quello che è accaduto sui migranti. I migranti sono donne e uomini che noi vogliamo accogliere, ma non si può pensare di far girare navi con persone a bordo, persone, ripeto, persone, perché dobbiamo trovare il porto che non sia guidato dal centro-destra. Vedo che molti che parlavano del rigassificatore oggi ne parlano in modo un po' strabico. È evidente che c'è una concessione triennale, bisogna stare agli atti e quindi all'ospirare dei tre anni il rigassificatore dovrà lasciare il porto di Piombino, a meno che qualcuno non si occupi di provare a farlo restare lì. Naturalmente non saremo d'accordo. Il tema vero non è il pro e il contro. Ci siamo sforzati a dire queste cose, spesso inascoltati da un lato da chi avanzava fobie antiscientifiche e dall'altro dai rigassificatori entusiasti. noi provavamo a dire che c'è una città, che c'è un territorio che ha bisogno di attenzione da molto tempo e che la vera questione non è il rigassificatore, che è un elemento di questa riflessione, che peraltro si è dimostrato inutile dal punto di vista delle convenienze industriali, perché non c'è stato un imprenditore industriale che si è posizionato rispetto all'utilità industriale del rigassificatore. Il rigassificatore è stata un'asserita risposta a un'emergenza energetica, appunto. Ha portato su quel territorio, in particolar modo sulla comunità portuale della ricchezza, perché ci sono imprese che ci lavorano. Dopodiché i traffici portuali sono su quella banchina, non disponibili, perché la banchina che era stata realizzata per ospitare la Concordia, che invece andò a Genova, è una sorta di nemesi anche rispetto al dibattito recente che ha riguardato le elezioni liguri e anche le dichiarazioni di ieri del presidente neoeletto di quella regione. La Concordia doveva venire in quella banchina che era stata approfondita esattamente per demolire la nave. Poi la nave a Genova. Quindi la Concordia convenne portarla a Genova e il rigassificatore convenne tenerla a Piombino, si dice, nella stessa banchina che avrebbe dovuto ospitare la Concordia. Quindi siamo in una dimensione nemetica e noi pensiamo che ci si debba occupare del futuro industriale di quel territorio, del futuro del porto di quella città, dentro la rete della portualità e della logistica toscana, delle bonifiche, della reindustrializzazione e anche, mi si lascia dire, di sospendere questa idea di rimozione di qualunque segno industriale. Ma assolutamente, vorremmo invitare alla tranquillità il governatore Gianni anche perché la posizione del governatore Bucci che fa il suo mestiere, anzi lo salutiamo e gli facciamo gli auguri per quello che fa, è la stessa dell'On. Orlando per quanto riguarda il fatto che il gasificatore a Savona non debba stare. Per quanto riguarda Piombino, a Piombino sappiamo che il gasificatore rimarrà fino al 2026, c'è un accordo col governo che sappiamo verrà onorato perché Piombino ha dato all'Italia, c'è un'altra storia da scrivere per il futuro del porto di Piombino, è quella che sta portando avanti il sindaco Ferrari e quindi a quell'epoca sappiamo che il gasificatore andrà altrove. Durante l'ultimo Consiglio regionale è stata approvata all'unanimità una mozione proposta da Marco Landi della Lega sugli interventi personalizzati basati sui principi del metodo ABBA per persone affette dallo spettro autistico. Il Consiglio di Stato ha riconosciuto l'ABA quale metodo basato sulle più avanzate evidenze scientifiche nella cura in bambini e adolescenti con ASD. La mozione impegna la Regione a garantire l'erogazione dei rimborsi relativi alle richieste presentate dal 1 giugno 2023 al maggio 2024. A elaborare e approvare coinvolgendo le associazioni dei familiari e delle persone autistiche che hanno presentato domanda il piano regionale attuativo per l'autismo al fine di assicurare ai bambini e agli adolescenti e adulti con disturbi dello spettro autistico una presa in carico globale e predisporre percorsi di presa in carico omogenee da parte delle aziende sanitarie dei pazienti con disturbi autistici. Dal 1 gennaio 2025 la prosecuzione di tutte le terapie ABBA in corso. Credo che sia una battaglia innanzitutto di dignità per tutte quelle famiglie che vivono con ragazzi, bambini nello spettro autistico, quindi bambini che hanno bisogno di terapie come le terapie ABBA, quei percorsi che sono stati sospesi nei finanziamenti lo scorso anno con questa mozione votata all'unanimità e presentata da tutti i gruppi politici in Consiglio regionale. Si vuole innanzitutto restituire il pregresso di quei fondi che non erano stati dati, quei finanziamenti del 2023, si vuole garantire anche un progressivo adeguamento di quello che devono essere poi le cifre, le quote giornaliere perché sono dei percorsi anche molto costosi che le famiglie non riescono evidentemente a mantenere in autonomia e poi bisogna dare anche slancio e effettiva efficacia e realizzazione di quello che deve essere del piano dell'autismo. Questi sono i punti salienti di questa mozione e con grande soddisfazione oggi è stata votata da tutti i gruppi politici all'unanimità un segnale di vicinanza innanzitutto ma anche di sostegno concreto rispetto a queste famiglie che hanno figli autistici e che devono fare i giusti percorsi per avere una vita quantomeno dignitosa e progressivamente sempre di più inclusiva. Nello svolgimento del Parlamento Toscano si è dibattuto anche sulla semplificazione delle procedure per la manutenzione del territorio in favore dei comuni. La proposta è passata con voto di maggioranza, contraria alla Lega, astenuti 5 Stelle e Fratelli d'Italia. Nella norma si punta a redigere uno schema di regolamento omogeneo in materia di polizia rurale al quale i comuni possano fare riferimento. Per polizia rurale si intende il servizio di vigilanza sulle coltivazioni e le aree agricole con particolare attenzione alla cura dell'ecosistema e alla sostenibilità delle colture. Con la legge che abbiamo approvato intendiamo redigere un regolamento valido per tutti i comuni sul tema della polizia rurale cioè la manutenzione del territorio, lo sfalcio dell'erba e dei lovi circostanti le borgate, la manutenzione dei torrenti, delle strade, temi importantissimi con cui gli amministratori locali si scontrano ogni giorno e che creano molti problemi anche di natura ambientale ed ecosistemica. Con questo strumento noi aiutiamo i comuni ad avere uno strumento per stabilire ordine, per stabilire chi deve fare e come si deve fare la manutenzione del territorio e per eventualmente istituire i controlli. Siamo consapevoli che questo non sarà la soluzione ai danni del cambiamento climatico ma certamente sarà un grande aiuto e soprattutto uno strumento a cui i comuni potranno fare riferimento. C'è bisogno di tanti investimenti e di tanti interventi ma c'è bisogno soprattutto che ognuno faccia la propria parte. Gli enti locali dovranno fare la propria parte, la regione la propria parte, il governo la propria parte ma ciascuno di noi come cittadini anche dobbiamo avere a cuore la cura delle nostre proprietà, degli effetti che questi hanno sulla proprietà comune e sul territorio perché se ognuno fa la propria parte certamente il territorio è più mantenuto e quindi meno sottoposto ai danni del cambiamento climatico. È tutto da cronache e commenti, appuntamento fra una settimana esatta dove tra l'altro il Parlamento Toscano si riunirà di nuovo prossima settimana nel Palazzo del Pegaso, dunque torneremo anche noi per andare a raccontarvi, ad ascoltare le voci dei consiglieri sui temi che verranno dibattuti in aula. Arrivederci. Grazie a tutti.